Marco ha scritto su Facebook, lo facevo pure io, facci vedere se questo gol lo sai fare davvero. Vai a cambiare, vi aspettiamo. Pronti? 3, 2, 1, vai! Aia, riproviamo dai! 3, 2, 1, vai! Meno male che lo facevi pure tu, è l'ultimo tentativo. Ok. Non lo scriverei più? Non penso proprio. Va bene. Grazie Marco. In bocca al lupo. E sempre Forza Roma. Grazie. Grazie per la visione! Grazie a tutti!